Non costringe nessuno perché noi abbiamo fatto proposte di assunzione che come forse ha visto sono state accettate dalla stragrande maggioranza, quasi della quasi totalità, 97,X% degli insegnanti. La proposta di un lavoro stabile, di avere un ruolo finalmente dopo in qualche caso anni e anni di attesa mi sembra una straordinaria opportunità, è un diritto di chi l'aspettava, è un diritto della scuola e di avere continuità didattica. Il fatto che per alcuni sia necessario spostarci è una legge fisica del paese dato dal fatto che gli insegnanti vanno dove sono gli studenti.